Dalla regione toscana dovrebbero arrivare, anzi arriveranno, 2 milioni e 750 mila euro. Parte di questi fondi che sono stati stanziati serviranno anche per la messa in sicurezza, consolidamento del ponte Buriano, che appunto è anche un'opera storica per messa in sicurezza e consolidamento, insomma due fattori che non dovrebbero andare a intaccare quella che è l'opera monumentale storica. Sicuramente, dunque questo ponte che è stato fatto diversi anni fa, quindi nel 1240-1270, e quindi aveva veramente bisogno di un restauro bello e buono, perché chiaramente tanti anni che probabilmente non ci si mette le mani. E quindi ecco, meno male che avviene questo, perché tanto che si parlava, tanto è vero che il discorso era iniziato appunto al momento dell'inaugurazione del museo di Leonardo, quindi perché quello si sa che ormai è stato certamente detto, e diciamo scritto da chi è, che se ne intende, quindi da Starnazzi e Pedretti, che quello è il ponte della Gioconda. E quindi questo è chiaramente, oltre che a essere un reperto storico, è anche una cosa, diciamo, che probabilmente unica al mondo, perché? Perché noi dobbiamo sapere che il 67% della popolazione mondiale conosce il quadro della Gioconda. E quindi questo è, diciamo, una bella cosa che noi abbiamo nella nostra provincia, nella nostra terra, e quindi speriamo che tutto vada in porto e che quindi questo ponte resti ancora per altri 1240 anni, che così ci potrà portare un po' di turisti e un po' di gente a vederlo. Infatti si parlava appunto di consolidamento per il traffico viario, perché comunque è sfruttato anche per quello il ponte, però soprattutto mantenimento anche di quella che è la struttura, proprio per un fattore turistico. Sì, dunque, lì ci sono due cose che sono importanti, per dire appunto, come hai detto te, il discorso turistico e poi soprattutto anche perché lì ci sono un centinaio di migliaia di persone che se dovesse essere chiuso per qualsiasi motivo quel ponte avrebbero grosse difficoltà per venire alla città oppure per andare in Valdarno. E quindi questo, oltre che all'importanza storica, è anche proprio un'importanza strutturale che è utile per la cittadinanza.